Si è venduto poco oggi? Per cui c'è una bella giornata, tanta bella gente? Non solo oggi, penso che da un po' si vende poco, la gente compra poco perché i soldi sono sempre pochi. Ma compra più generi alimentari di primarie necessità e compra meno vestiario, gettistica, tutto quello? Secondo me compano le robe necessarie, il mangiare, almeno il minimo, costa ma meno quello lo compriamo ancora. E se dovesse dare un consiglio ai giovani come lei in questa zona, qui siamo a Rivarolo, 12.000 abitanti, 30-35 km da Torino, dovesse dare un consiglio ai giovani di questa zona? Cercare di trovare un lavoro, di impegnarsi e di tenerselo stretto se ce la fanno a trovarlo più che altro. E in che settore lei direbbe ai giovani di distruirsi, di organizzarsi, improprio, non, cioè dovesse investire un giovane, una banca dovesse dare un minimo di risorsa su un'idea, su un progetto? Una banca, ma le banche, lasciamo perdere le banche, comunque se dovessero trovarlo non lo so, innanzitutto in primis lo studio, cercare di studiare se ce la fai a mantenerlo lo studio e poi dopo comunque un lavoro, qualsiasi tipo di lavoro. Sì, per esempio, ma tramite il microcredito si potesse attingere al microcredito, quindi ha una piccola somma, cosa farebbe lei in questa zona? Lasciamo stare il lavoro che fa attualmente, un altro lavoro. In questa zona? Non lo so, in questa zona non lo so cosa potrei consigliare, però... Agrismo? Agricoltura? Sì, agricoltura sì, qualcosa di agricoltura sì, però poi c'è il piano di fabbriche qua, una zona che hanno chiuso, però qualcosa si sente ancora, che lavoro ce n'è, dipende, poi ci sono i contratti, i soliti contratti e... Va bene, grazie, auguri, complimenti, buona giornata.